niente mi sono fatto un graffio ieri e volevo dire un attimo una cosa quando ci si fa un graffio del genere dopo che ci si è puliti disinfettati e cose bisogna far uscire un poco di sangue perché quello la fa da tappo perché tramite le piastrine fa da tappo sopra siccome il sangue sta a una pressione maggiore rispetto a quella lì dell'ambiente esterno il sangue esce e impedisce ai eventuali microbi di entrare all'interno questo è un altro sistema di difesa poi la colla aciona acrilica la colla aciona acrilica sarebbe quello che tutti quanti chiamano il super attack durante la guerra del vietnam veniva fatta usare proprio per cerotto istantaneo comunque io non lo consiglio perché essendo liquida potrebbe ora la si potrebbe mettere perché ma la ferita è suturata però piuttosto che non c'è l'ottima malta a meno per far non faccio postare troppo i lembi della pelle qualche miseria quando ho detto tutto